È forse la piaga della comunicazione dei nostri tempi, con pesanti ripercussioni sul nostro modo di leggere la realtà. E Papa Francesco, nel suo messaggio per la 52esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, la prende di petto. Stiamo parlando delle fake news, le notizie false o distorte volte a ingannare e manipolare il pubblico. L'efficacia delle fake news, scrive Francesco, è dovuta in primo luogo alla capacità di apparire plausibili. In secondo luogo sono abili a catturare l'attenzione dei destinatari, facendo leva su stereotipi e pregiudizi diffusi. Finendo quindi per suscitare emozioni negative, quali ansia e disprezzo, e alimentando una logica della disinformazione. Il dramma della disinformazione è lo screditamento dell'altro, la sua rappresentazione come nemico, fino alla demonizzazione che può fomentare conflitti. Nessuno, sottolinea il Papa, può esonerarsi dalla responsabilità di contrastare queste falsità, che hanno una storia lunga. La prima fake news può essere individuata, infatti, nella tentazione del serpente ad Adamo ed Eva. Ciò dimostra come nessuna disinformazione sia innocua, e per difendersi il migliore antidoto contro le falsità, non sono le strategie, ma le persone. Persone che, attrate dal bene, si responsabilizzano nell'uso del linguaggio. Il valore delle persone, di relazioni autentiche, il fulcro del testo del Pontefice, che cerca i limiti e le potenzialità della comunicazione, insiste sulla necessità di ricordare che al centro della notizia non ci sono la velocità nel darla e l'impatto sull'audience, ma le persone. Informare è formare, è avere a che fare con la vita delle persone. Un ruolo cruciale rimane quello del giornalista, custode delle notizie, lo definisce Francesco, che invita a promuovere un giornalismo di pace, non però un giornalismo buonista, che neghi l'esistenza di problemi gravi e assuma toni sdolcinati, ma al contrario un giornalismo senza infingimenti, ostile a falsità, a slogan ad effetto e a dichiarazioni roboanti. Un giornalismo al servizio di tutte le persone, specialmente di quelle che non hanno voce.